Bentornati amici qua nel salotto di Mestai cose da uomini oggi facciamo una bella unboxing del nostro primo orologio quindi ne sono passate due settimane dall'acquisto di questo orologio l'ho voluto un attimino un po testare per capire come funzionava se andava bene quanto tempo perdeva e direi che sono pienamente soddisfatto un grandissimo orologio stiamo parlando di Steinhardt Steinhardt è un marchio che alcuni definiscono ancora micro brand anche se secondo me parlare di micro brand nel caso di Steinhardt è un po riduttivo è vero non ha non si trova nei negozi fisici ma si compra solo su internet principalmente nel sito Steinhardt o anche nel sito di Neomond direi per il quale fa delle delle serie limitate proprio apposta per la ditta Neomond per il negozio Neomond Steinhardt è un marchio che non è conosciuto direi tantissimo o perlomeno è conosciuto tra gli appassionati di orologi tra gli addetti ai lavori ma meno secondo me dalla persona comune allora su questo marchio diciamo che ci sono anche tante polemiche perché Steinhardt principalmente fa degli omage omage agli orologi della casa coronata ai ben più famosi orologi a casa coronata e tanti dicono che sono dei veri e propri cloni ed è abbastanza vero in effetti sono come design sono dei veri e propri cloni e sono fatti anche qualitativamente molto bene ma hanno dei prezzi veramente molto inferiori diciamo scala 1 a 10 e sinceramente in onestà non credo che il divario sia quello sicuramente la casa coronata per storia blasone qualità dei materiali movimento è sicuramente superiore a Steinhardt è fuori di dubbio però una differenza di 1 a 10 mi sembra veramente troppa a livello di prezzo diciamo che Steinhardt fu fondata nel 2001 dal signor Gunther Steinhardt che ancora oggi ne è il presidente e la sua filosofia quando ha fondato questa casa era proprio quella non proprio di fare cloni però lui in un'intervista ha lamentato che secondo lui non riusciva a capire e si arrabbiava perché a certi orologi dovessero costare così tanto e anche i bracciali dovessero costare così tanto e quindi lui si proponeva di poter dare una buona qualità a prezzi onesti molto più bassi ed effettivamente se questo era il suo credo in questo è riuscito pienamente secondo me quindi tanto di cappello il signor Steinhardt poi è vero tanti lamentano il Rolex dei poveri chi non può arrivare a comprare un Rolex comprono Steinhardt insomma sono discorsi un po' riduttivi intanto diciamo che se escludiamo quelle 3-4 case bene o male tanti fanno cioè si ispirano comunque chi più chi meno sono partiti tutti da lì eh cioè affare di Submariner sono tutti diversi però chi più chi meno è partito sempre da quella da quell'idea lì e secondo me offendere Steinhardt per quello non mi sembra giusto poi sicuramente piuttosto che comprare un falso fake ovvero clone marchiato proprio quindi oltre che a essere un reato è una cosa veramente ignobile secondo me per chi ama gli orologi chi ama l'orologeria mentre perlomeno se compro uno Steinhardt mantengo comunque una dignità dell'orologio e una dignità anche mia perché comunque non mi fregio di portare una cosa che non mi potrei permettere o che non ho voluto acquistare per il costo vorrei ricordare che Rolex ha un problema che effettivamente in giro ci sono tanti falsi quindi diciamo che certe volte anche possedere l'originale il vero se non sei una persona in grado di poterlo portare fai comunque la figura di quello che al braccio un falso anche se così non è mi spiego meglio se voi comunque siete sciatti nel vestire o magari avete una macchina un'utilitare normalissima e poi se vi vedono scendere vestiti sciatti e da un'utilitare normalissima con un Rolex anche se è vero penseranno che è falso ok quindi è uno stato simbol che effettivamente rappresenta uno stato sociale come abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la puntata sull'orologio del perché tenerlo e quindi rappresentando uno stato sociale devi comunque essere in grado di appartenere a quello stato sociale devi comunque essere in grado di dimostrare che è un orologio che ti puoi permettere altrimenti farei sempre la figura del falso poi l'importante è che tu sai che ero e l'importante è che tu lo porti con dignità però è così quindi a me piace a me che piace l'orologeria io di orologio ne ho avuti veramente tanti ho avuto i marchi più importanti perché io Submariner l'ho avuto come ho avuto lo Speedmaster e il Muwatch come ho avuto l'Eberer Corona 4 il Tegoer Carrera quindi diciamo il Tudor Black Bay quindi diciamo che qualche orologino di valore l'ho avuto e poi anche rivenduto nel tempo chiaramente e di sicuro quello della casa coronata è uno di quelli su cui non ci ho rimesso ma ci ho guadagnato però obiettivamente lo bramavo tanto ma più che altro forse per dimostrare quello che in realtà non sono e dopo averla avuto mi sono reso conto che era comunque un orologio che dir si voglia è comunque un orologio e dopo un anno l'ho venduto sono onesto l'ho venduto non per esigenza ma perché effettivamente non mi dava niente di più di quello che era e quindi non mi ha dato soddisfazione possederlo diciamo alla fine ho venduto quello ho preso il Tudor perché stilisticamente mi piaceva di più criticatemi ma era così comunque adesso ho comprato questo bellissimo Stainer Ocean One Bronze 42 mm mi piace molto è preciso monta un sellita ma è preciso e scarta tipo 3 4 secondi al giorno quindi direi che essendo un orologio normale non certificato COSC è precisissimo a un prezzo invidiabile perché di bronzo di orologi con la cassa in bronzo guerra e bronzo ne avevo cercati in giro perché mi piaceva proprio quello volevo un orologio proprio con quello spirito e a meno ho trovato solo degli mvt e dei Lamberti orologi che poi alla fine la cassa sono orologi identici cambia solo il quadrante proprio gli fa una ditta per loro che è la stessa credo e comunque costavano intorno ai 2 e 60 300 euro montando un NH 35 della Seiko questo comunque è made in Svizzera e anche se la casa è tedesca la casa sede ad Augusta però come sapete per avere lo Swiss made basta dimostrare che il 60 per cento dei costi dell'orologio e di produzione dell'orologio vengono sostenuti in Svizzera il movimento deve essere chiaramente svizzero deve essere incassato in Svizzera e anche il controllo di qualità deve essere fatto in Svizzera quindi alla fine avere un orologio Swiss made ti dà comunque una certa garanzia di qualità Steinhardt lo è è veramente qualitativo come orologio è veramente stupendo molto bello da vedere molto bello e leggero da pulsare un'estrema qualità sono convinto che chi lo comprerà lo apprezzerà molto ha un prezzo di 475 euro che è la metà dei suoi concorrenti per farne uno come nomi il Glyssin combat sub bronze costa intorno il più basso che ho trovato veniva intorno ai 685 quasi 700 euro ma principalmente si attesta intorno al doppio Christopher Ward uguale è intorno ai 1000 euro e montano lo stesso identico movimento quindi e qualitativamente non mi sembra che ci sia tutto questo divario onestamente io poi in aggiunta ci ho preso anche il bracciale in caociù perché essendo impermeabile fino a 300 metri me lo voglio godere anche al mare quest'estate e quindi ho preso anche il bracciale in caociù che ha una chiusura deployant ho acquistato a parte la chiusura deployant in colore bronzo perché a me l'ardiglione proprio non piace star lì a sciappinare per chiudere l'orologio mi dà fastidio quindi se compro un orologio con un cinturino in pelle o caociù che sia se ho la possibilità che la fanno prendo sempre la chiusura deployant pagato un prezzo onesto quindi tutto finito dei vari bracciali ho speso intorno ai 570 spedito e come vedrete è stato spedito molto bene comprato sul suo sito ufficiale tedesco il sito è solo in tedesco o in inglese però si capisce tutto molto bene poi col traduttore di google copia incolla traduci alla fine riesce benissimo a capire di che cosa stanno parlando e anche se devi interagire con loro ci riesce ma io non ho avuto bisogno orologio acquistato il sabato sera dal mio letto intorno alle 9 a lunedì mattina alle 11 avevano già processato e spedito il pezzo quindi il mercoledì l'ho ricevuto quindi due giorni lavorativi come c'era scritto sul sito direi perfetti io non ho niente a dire adesso vi lascio all'unboxing dell'orologio così vedrete anche la qualità dell'imballo e il packaging che viene affidato all'orologio e ci rivediamo qua dopo eccoci qua amici arriviamo al momento dell'unboxing di questo stainer ocean bronze come vedete il pacco arriva da fedex molto ben incartato andiamo ad aprirlo all'interno molto pluribore ora a me piace fare la box in vera e proprio cioè di aprirvi il pacco con tutto quello che riguarda come è stato fatto come non è stato fatto questo perché perché mi sembra giusto farvi vedere anche le varie case vari fornitori come come impacchetteranno i vostri pacchetti adesso io non ho preso solo esclusivamente l'orologio ma sono andato a prendere anche degli accessori proprio perché l'orologio piacendomi molto ho pensato che nel tempo forse questo lo riuscirò a tenere un po e quindi ho voluto prendere anche degli accessori utili qua abbiamo un bel bracciale in caociù con la chiusura deployant in bronzo con anche delle anse che non mi aspettavo di trovare vi faccio vedere molto bella con logo stain art anche anche questo che abbiamo un sacchettino con un'altra chiusura deployant sempre colorata bronzo non sono il bronzo ma sono colorate in bronzo e poi ho preso anche l'arnese per cambiare i bracciali un cacciavitino e questo per le anse perché ne avevo uno cinese nei classici pacchi e classici kit da orologiai cinesi ma effettivamente non era molto qua direi che abbiamo la fattura esattamente c'è la fattura dell'orne poi diamo una bellissima contro scatola bianca in cartone con il logo stain art argentato e qua abbiamo tutta una serie specifiche meccaniche o c'è un one bronze light brown questo non monta un servita ma monta un età 28 24 in realtà non specifica cosa monta non specifica cosa monta uno o l'altro bisognerebbe probabilmente aprirlo anche se poi il calibro è elaborato dalla casa quindi qua c'è la garanzia tutte le istruzioni dei vari foglietti e i ringraziamenti da parte di stain art per l'acquisto allora dentro contro state scatola c'è la velina che avvolge la vera e propria scatola qua è scivolata un'ansa da qualche parte allora scatola in similpelle con loro stella una chiusura a pressione scatola che che da sensazione di qualità dentro la sua gomma piuma per evitare qualsiasi inconveniente l'orologio con la targhetta stain art e il suo codice a barre qua abbiamo l'orologio il quadrati nero bella la ghiera che ha un colore simil verde oliva cinturino in pelle cinturino in pelle marchiato stain art molto morbido un buon spessore lo annuncio un attimo un vero odore di pelle non di plastica chiusura d'ardiglione sempre color bronzo che io andrò a sostituire con la chiusura del proyant che ho preso a parte l'orologio è un 42 mm come diametro uno spessore di 14 e direi che si vede tutto questo spessore anche se poi diciamo che lo svasamento sotto e il bicolor aiuta forse a vederlo un po più sottile il vetro leggermente smussato vetro zaffero con doppio antiriflesso uno esterno e uno interno orologio con indici stampati con superluminova categoria 3 molto bello molto simmetrico come quadrante l'ho comprato soprattutto perché non aveva la data perché la data secondo me negli orologi serve se si legge bene altrimenti è una cosa inutile quindi orologio completamente in bronzo anche la ghiera anche la corona invece il fondello in acciaio 316 L con il logo Stainart del cavalluccio serrata a vite come anche la corona è a vite ovviamente sono molto bene molto via fluida allo scatto inutile della data perché il calibro che ho una scelita 200 o a un età 28 24 che monterebbero la data comunque molto bella molto precisa si avvita molto bene molto scorrevole bello vediamo il polso come risulta l'orologio so già che per il mio polso sarà leggermente grande però a me piaceva molto questo orologio e ho voluto prenderlo lo stesso anzi vi dirò pensavo fosse più esagerato invece in camera forse vi sembra più esagerato di quello che è orologio molto leggero orologio molto leggero chiaramente per grazie alla pelle pelle molto morbida da indossare bello bello si percepisce la qualità vedete che è però muove bene sembra solida ha questo un po' di gioco all'indietro però niente di così grave diciamo bello bello orologio mi piace molto sono molto soddisfatto dell'acquisto molto soddisfatto dell'acquisto va bene con questo vi saluto e torniamo nel nostro salotto per le conclusioni bentornati amici spero che l'unboxing vi sia piaciuto non sono ancora molto pratico ve ne sarete accorti non ho chissà che pretese non pretendo di mettermi in concorrenza con i mostri sacri dell'orologeria avevo detto che di unboxing non avrei voluti fare ma obiettivamente visto che questo l'ho comprato per me ho detto voglio condividere questa mia esperienza sul mio canale con chi mi segue in futuro farò altri unboxing non così perché questi orologi sono già in mio possesso però vi farò vedere comunque il packaging e parleremo del combat sub di glycine e anche del combat 6 di glycine dress watch molto interessante che a me piace molto e poi farò anche un confronto fra questo ocean one bronze e glycine combat sub vintage che è in mio possesso voglio fare anche un confronto quindi queste saranno le prossime occasioni dell'orologeria se non succede altro che ne dovessi comprare degli altri e quindi vi aspetto di nuovo qua sul mio canale per parlare di orologi per parlare di pipe per parlare di fantacalcio quindi iscrivetevi spero che vi troviate bene in mia compagnia che sia piacevole ascoltarmi se così fosse un bel mi piace anche per rametto il nostro amico che è sempre qua sul nostro canale è la mia mascotte per chi non lo conoscesse andatevi a vedere i film dei guardiani della galassia Groot fa veramente morire da ridere è veramente stupendo alla prossima ci rivediamo qua sul mio canale a presto